arriva il momento anche oggi degli ospiti secondo blocco blocco degli ospiti oggi ai nostri microfoni abbiamo daniele vincini segretario e grazia ingrau segretario aggiunto del sindacato unitario lavoratori della polizia locale buongiorno 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 agli ascoltatori buongiorno grazie benvenuti grazie perché insomma con voi si può fare un po di chiarezza su quei temi che sui giornali troppo spesso vengono scritti un po così diciamo giusto per raccontarli invece almeno così cerchiamo di capirci bene la domanda in cui dobbiamo iniziare ovviamente è sullo sciopero di domani no cosa è successo lorenzo ricordiamo un attimo è successo che due giorni fa il neo prefetto sgaraglia si è si è esposto e sostanzialmente si è deciso per il differimento ad altra data dell'agitazione che era appunto prevista per domani giusto ci volete raccontare un po cosa è successo ma è successo che l'amministrazione con un atto unilaterale ha mandato avanti un'informativa adesso non entro nel tecnicismo sindacale se non che io gli ascoltatori comunque poche parole ci hanno detto che dal 13 febbraio l'accordo il nostro contratto decentrato non sarà più quello e verrà snaturato verrà cambiato quello è un contratto che è la storia della polizia locale il problema vero di implementare le pattuglie di serale notturna loro vogliono aumentare l'età anagrafica per chi dovrà fare questi tipi di servizi noi eravamo disponibili a discutere con un altro modo un altro approccio per dare lo stesso risultato ovviamente come sempre con prepotenza e arroganza hanno hanno imposto questa linea sindacale non è stata condivisa da nessuno delle sigle sindacali presenti ai tavoli c'è stata un'assemblea dei lavoratori che hanno evidenziato che un corpo di polizia locale non può sempre essere preso a pesce in faccia c'è una dignità di una divisa ci deve essere rispetto da parte dell'amministrazione giustamente ma voi appunto avete minacciato questo sciopero di Sant'Ambagio lo sapevate forse che finiva con un procettamento immagino giusto cioè era beh non è la prima volta credo credo che siamo una delle poche categorie che il diritto dello sciopero è alquanto aleatorio com'è che appunto com'è che avviene insomma siete una categoria di lavoratori speciali sicuramente con delle regole com'è che avviene in questo caso cioè quali sono le regole per cui voi ovviamente avete anche il diritto di sciopero però non è così semplice come per qualsiasi altra categoria ma guardi per indire uno sciopero per i servizi essenziali bisogna avere la congiunzione a strade ottimale nel senso che noi abbiamo più di alcune volte è sbagliato anche in dire lo sciopero perché c'è la rifazione dei compriti c'è tutta una normativa che voglio dire porta ad avere delle regole stringenti noi questa volta ce l'abbiamo fatta l'abbiamo indetto nel momento giusto è stato rigirato come un guanto tutta la procedura però sapevamo che in concomitanza del 7 molto probabilmente saremmo stati precettati o come è successo il prefetto avrebbe disposto il fatto di spostare questa data quindi dal differimento dello sciopero lo sapevamo già però rivendichiamo il fatto che una categoria ha anche il diritto visto che non siamo considerati forza di polizia per questa amministrazione siamo praticamente degli amministrativi con la divisa e da quello che ha detto l'assessore granelli più più simili agli assistenti sociali che dai poliziotti a questo punto fateci scioperare però è arrivato il provvedimento del prefetto noi ci atterremo ma entro domani indiremo un'altra data di sciopero chiarissimo assessora la sicurezza granelli sì 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 una cosa che abbiamo letto sui giornali che mi hanno stupito un po' ma che volevo capire meglio con voi tra le richieste che avete fatto nelle varie comunicati che avete diffuso anche il fatto di non essere d'accordo con il vigile di quartiere diciamo chiamiamo così vigile di prossimità cambia il nome ecco mi chiedevo come mai nel senso una cosa non è che a volte ci viene venduta come la panacea di animale e quindi diciamo capire non è che non siamo d'accordo col vigile di quartiere dobbiamo però contestualizzare il periodo storico in cui siamo e la situazione in cui siamo e come si evolvono sia le società sia le forze di polizia che vi devono operare adesso noi penso che alla causa abbiamo dato abbastanza colleghi già nel 2012 uno degli ultimi purtroppo con nostro rammarico l'assassinio del nostro compianto Niccolò Savarino in bicicletta che è stato completamente è stato investito e trascinato allora assassinato esatto l'allora assessore alla sicurezza Granelli con dichiarazioni pubbliche dice mai più in bicicletta o a piedi perché è anacronistico dal punto di vista della versatilità dell'operatore è anacronistico dal punto di vista della sicurezza dell'operatore e quale ausilio può dare alla cittadinanza ricordiamoci che a un certo orario viene la prima la penombra poi il buio non li vedi più in strada e quando noi fermiamo una persona uno di questi soggetti che non hanno nulla da perdere magari è solo appena lo fermi hanno un arreto attorno nelle vicinanze che diventano dieci e diventiamo dieci contro due al buio magari in una situazione poco consona per il collega che può anche chiamare l'emergenza ma lo devo trovare dove dove è finito e comunque non è sicura è come avere un bersaglio in testa più o meno chiaro mettono due persone in strada con un bersaglio in destra che non hanno tutti i dispositivi a noi non sono stati consegnati dispositivi neanche di sicurezza se per questo neanche le uniformi o le pattuglie perché poi ci viene anche il dubbio siccome abbiamo pattuglie vetuste siccome il parco macchino non è stato cambiato siccome molte pattuglie sono in officina mi viene il dubbio che probabilmente non avendo mezzi e vendo gli operatori adesso non sufficienti ma avendone qualcuno li mandiamo a piedi poi non li vede nessuno al buio però loro hanno fatto la loro pubblicità interessante questo perché spesso invece vedete il contrario che siete in troppi negli uffici e avremmo bisogno di più finisco anche questo allora possiamo dire tutto il contrario di tutto poi alla fine sono i dati che parlano con la fine dicembre queste politiche occupazionali che hanno fatto che sono state fatte non sufficienti perché li dobbiamo sottrarre a coloro che vanno via per gestazione quindi al momento con queste politiche occupazionali rispetto al numero del 2018 siamo a più 140 circa operatori non stiamo parlando di grossi numeri con questi numeri qua dobbiamo distribuirli nei quattro turni noi siamo una forza di polizia abbiamo anche un decreto sicurezza del 2019 sono stati dati dei obiettivi concorriamo nella nell'attività contro i reati predatori l'amministrazione ha voluto i ragazzi si sono fermati sono formati sono professionalmente pronti e qualificati e stanno ci c'è una parte del degli agenti degli ufficiali polizia locale che sono destinati a queste specializzazioni reati predatori i famosi numeri che a fine anno inizio anno sciorinano abbattendo le mani ai colleghi salvo poi eh eh tirar fuori queste dichiarazioni poco dignitose e rispettose che del lavoro che viene fatto quindi se una parte fa un determinato tipo di attività l'altra parte è sul territorio in divisa ma è poco più della metà diviso in quattro turni tutta l'attività che si va fuori e poi va ultimata e definita e questo viene fatto all'interno e non ci sono questi grossi numeri all'interno c'è tutta un'attività all'interno da fare senza contare che chi è in ufficio peraltro risponde alle deleghe delle procure risponde alle richieste degli enti risponde alle richieste dei cittadini e cerca di terminare le attività che sono state eh fatte svolte all'esterno qualcuno lo dovrà fare consideriamo che nell'ultimo periodo anche questi colleghi che hanno anche una certa età e qui viene fuori la questione del contratto che ci regola perché è un contratto solidale che con questi numeri negli anni ha hanno permesso fino a dieci quindici anni fa hanno permesso che sul territorio ci fossero venti ventidue pattuglie la notte normale non non erano male ma la condizione sine qua non che questo contratto funzionasse e che ci fosse costantemente e continuamente un ricambio generazionale tanti ne escono tanti ne entrano se siamo arrivati da 3002 dei tempi di albertini del 2002 dopo una grossa lotta di lui di cui lui è infatti la questa è l'altra cosa vuol dire passano le giunte ma le lotte non passano mai allora sindaco albertini alla fine si eh si riuscì ne potrà parlare meglio lui che la memoria storica si riuscì a far comprendere diede corso a una campagna di assunzione arrivamo a 3002 così come è questo contratto che organizza l'attività portava molte pattuglie all'esterno sia di serale che di notturna la condizione era che quando i colleghi cessano l'attività e vanno sostituiti il turnover deve essere al 100 per cento costante e continuo invece noi abbiamo avuto dieci quindici anni che prima perché furono bloccate le assunzioni poi furono diciamo come legge come norma nazionale poi finalmente fu sbloccata e loro non hanno dato corso e dal 2014 che noi rappresentiamo questo decadimento chiaro 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 vincini ha citato albertini io l'anno scorso l'ho intervistato albertini e ha portato ha portato anche lui subito questo racconto dico una bella storia lo racconta invece iniziata nei peggiori dei modi dice è finita invece nelle migliori delle maniere lo dico fuori dei denti io ho fatto 18 mesi di divertenza è successo di tutto denunce è stata una bella lotta sindacale ma faccia faccia senza tanti giri di parole poi alla fine arrivamo all'accordo del 2002 che poi è figlio del 97 98 perché la vera battaglia fu fatta tra il 97 e il 98 18 mesi di divertenza abbiamo siglato un accordo che mediava perché anche allora c'era il problema degli uffici dei vigili di agenti in ufficio la mancanza di pattuglia il discorso della sicurezza non è cambiato nulla e non male dal 97 ad oggi il problema vero che la situazione sicuramente è peggiorato quell'accordo però è ancora valido per noi perché dava addirittura più pattuglie di quelle che prevede la l'odiena amministrazione e il problema è che se non dai corso al turnover tu alla fine come noi avevamo detto dopo ci hanno detto voi siete le cassandre no noi riusciamo a malapena a fare un po' di conto e alla fine sapevamo che siamo finiti così ma dopo la battaglia sindacale il sindaco Albertini investì nella polizia locale cioè lui ci ha messo i soldi per essere proprio i fondi chiamiamo come vogliamo alla fine ha messo mano al portafoglio e ha detto io voglio una polizia locale degna della città di Milano ha fatto le assunzioni ha comprato i mezzi ha comprato le divise noi oggi mi spiegate questa cosa di divise io sono un attimo sconvolto in che senso non ci sono le divise? ma noi noi abbiamo colleghi che gli hanno dato il minimo sindacale c'è un pantalone una giacca un giubbolo cioè uno come uno? poi vabbè se vado a mando mio figlio a giocare all'alcione gli danno almeno tre di maglie ma noi abbiamo avuto sull'emergenza Seveso colleghi che hanno dovuto mettere i sacchi dell'immondizia ai piedi perché non avevano gli stivali ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo siamo partiti nel 2018 a fare l'avvertenza quindi con Albertini 18 mesi questo ormai sono 6 anni che noi abbiamo abbiamo ingaggiato con questa amministrazione e il problema è vero che siamo partiti con 5 punti come piattaforma sono passati questi anni e sono diventati 18 cioè invece di andare a migliorare andare ad affrontare i problemi ma anche quello della pattuglia sull'organizzazione del lavoro un corpo di polizia gerarchicamente costituito che non ha i sotto ufficiali noi su questo vorremmo dire la nostra forniamo i sotto ufficiali e avremo personale o su base volontaria che farà il capo pattuglia nei servizi notturni e serati chiaro allora questi 5 punti che adesso sono 18 tutti 18 non abbiamo tempo di leggerli ma i punti salienti che secondo voi bisogna portare avanti bisogna raccontare che voi portate avanti ce n'è uno in particolare io non voglio tediare con la mancanza di mezzi la logistica e tutto questa cosa qua le regole interne c'è un altro aspetto che poi ha portato alla rottura fatta e voluta dai lavoratori noi arriviamo con un mandato assembleare due mandati assembleare due mandati perché sono state fatte due assemblee per essere chiari della situazione i colleghi sanno la situazione qual è esasperati anche perché oggi ci troviamo nelle condizioni che se un collega un agente di polizia locale ingaggia per qualsiasi motivo arriva allo scontro fisico e va in infortunio il problema è che lui viene pagato come se fosse in malattia quindi noi avendo un salario legato alla presenza alla fine c'è una decurtazione salariale questo secondo noi è inaccettabile vuol dire praticamente dare l'input ai colleghi fate una cosa girate la testa dall'altra parte perché se rimarrete contusi nello scontro vi paghiamo come se fossi in malattia come se fossi caduto nelle scariche di casa tua questo è inaccettabile la tutela legale noi abbiamo avuto colleghi che sono stati abbandonati al loro destino perché hanno cercato poi magari hanno leggermente esagerato non è stato tutto fatto e sto parlando del caso della trans del mese di maggio però hanno cercato di fare quello che potevano con gli strumenti a loro disposizione abbandonati da tutti ecco forse proprio su questo tema mi viene a dire che magari certe situazioni non le vedremo e non le vivremo se magari ci si sente un po meno abbandonati e un po meno frustrati anche perché insomma diceva giustamente se poi non abbiamo gli strumenti se poi ci sentiamo abbandonati magari si rischia a volte cioè esseri umani come dire quindi ci può stare che magari appunto venga è complicato pensare che non puoi fare il tuo lavoro perché sei abbandonato da chi dovrebbe aiutarti a farlo al migliore dei modi poi non vuol dire difendere tutti a spada tratta infatti noi difendiamo i colleghi ma giustamente giustamente lavoro certo che se uno ci sta si pide i soldi c'è se uno posso dirle vincini ci sta anche che uno ma ci sta che uno sbagli ci sta che qualcuno sbagli quando sei in strada e ingaggi un incontro scontro con questi soggetti ripeto non hanno nulla da perdere sono sul territorio sopravvivendo non voglio dire da dove arrivano perché poi entreremo in un aveo politico e polemico di altro tipo esatto questi non hanno nulla da perdere quando tu li fermi perché un cittadino ti segnalano che ha fatto qualcosa in quel momento non ci sono telecamere non ci sono telefonini di nessuno tutto quello che succede prima non è non è cristallizzato da nessun tipo di strumento digitale tutto quello che succede dopo in tutto un percorso per cercare di fermarlo perché poi se c'è da fermarlo o arrivare addirittura all'arresto ed è tuo dovere se non sono omissioni tutto quello che succede con questo che tenta di sottrarsi quello è facile che il momento clu che magari o il collega si è visto costretto a fare a agire con una forza maggiore non commisurata come dicono loro o il collega si sta difendendo ma manca la parte precedente quello è sempre lo vediamo sempre su un telefonino di un pempezzato tutto il resto non c'è il collega a quel punto ha finito di fare la sua attività viene messo al risalto della cronaca nel modo più negativo possibile abbiamo un'amministrazione che gli sputa contro consentitemi di poterlo utilizzare perché subito si sottrae al confronto con i cittadini quantomeno dire lasciamo che l'autorità giudiziaria faccia il soccorso a me basterebbe quello però ci metta anche e poi la tutela legale noi siamo qua stiamo portando avanti anche una raccolta fondi perché noi dobbiamo difendere i nostri colleghi che non sono solo i tre che sono stati riprese ce ne sono diversi in situazioni analoghe e dobbiamo fare le perizie dobbiamo pagare gli avvocati abbandonare perché c'è conflitto di interesse quindi e addirittura vanno avanti con i procedimenti disciplinari cioè oltre questo c'è anche il procedimento disciplinare i colleghi dei famosi fatti di marzo sono stati colpiti nella prima volta al procedimento disciplinare non è finito il primo che già gli hanno notificato un altro procedimento disciplinare se si interviene a prescindere che dopo ci sia sono momenti particolari parlare dietro una scrivania è tutto facile poi quando si è lì non sarà andato tutto benissimo nessuno dice questo però abbandonarli metterli in ufficio togliere di parte del salario poi abbiamo avuto il collega mi ha spaccato la testa ovvio e palese che tre anni e otto mesi tentato mi c'è mi ha spaccato la base la teca cranica e ci sono i filmati che parlano piccolo problema a parte invertite non è mai successo perché voglio dire un agente polizia locale che io non l'ho mai visto e non lo voglio proprio vedere però c'è un piccolo problema la controparte normalmente nulla nulla tenente cosa fa denuncia la controparte dell'agente polizia è solvibile la controparte secondo la nata paga ma deve fare estragate di giudizio deve mettere mano al portafoglio per pagarsi gli avvocati e gli avvocati non lo fanno a gratis per noi noi paghiamo fino all'ultimo centenario fatti invertite il collega denuncia gratuito patrocino per la controparte perché nulla tenente dobbiamo pagare gli avvocati se viene condannato come sono stati condannati non avendo nulla non becchi un centesimo questo è il discorso che dobbiamo portare ma servono regole certe da parte dello Stato e non dobbiamo abbandonare le divise al loro destino ecco vi chiedo questo prima di chiudere c'è sembra che ci sia quasi un disegno di delegittimazione a questo punto verso voi un po' denunciate questo cioè sempre delegittimati un po' del vostro ruolo importante soprattutto usate come capo espiatorio in generale politica fallimentare sulla sicurezza che ripeto andiamo su un altro piano politico polemico che per noi non è di destra né di sinistra esatto la sicurezza è di tutti non c'ha un colore unice sempre basile è un diritto dei cittadini esatto però il problema è quando c'è si arriva a questo punto dove i cittadini denunciano una sensazione una percezione una realtà di insicurezza perché non fermiamoci solo alla percezione l'unico modo che hanno per rispondere vabbè loro non ci sono non è che dicono che ne abbiamo pochi loro non ci sono adesso li facciamo uscire dagli uffici adesso li facciamo andare a piedi come se la colpa fosse nostra adesso questa è una questione di dignità e di rispetto di lavoratori che ogni giorno vanno in strada e lasciano le loro famiglie che non hanno sabati domeniche che non hanno i festivi comandati cioè che devono lavorare e anche in queste giornate particolari lasciano le loro famiglie almeno un po di rispetto verso questi colleghi quello che mi preme dire oggi è che i colleghi sono uniti che c'è le organizzazioni sindacali sono uniti nella difesa degli operatori tutte che è stato organizzato questo blocco degli straordinari perché essendoci politiche occupazionali insufficienti questa città è stata portata avanti con i carichi di lavoro sui colleghi che lavorano in doppio turno quindi a questo punto i colleghi non fanno più gli straordinari che questa settimana già sta funzionando e i colleghi non si stanno presentando proprio per dare un segnale in straordinario ovviamente domani ci hanno precettato siamo allibiti che abbiano precettato anche lo straordinario poi vedremo questa situazione non ci fermiamo qui ci hanno precettato o meglio hanno differito lo sciopero del 7 adesso segnaleremo qual è la prossima data non ci segnaliamo non ci fermiamo qui fin quando non tolgono quella informativa dal dal tavolo ci sediamo le proposte ce le abbiamo tutte le organizzazioni sindacali per addivinire a un congruo numero di serale di notturno dei colleghi che per noi è necessario anche per la tutela dei colleghi stessi che sono pochi e soli la sera e di notte sul territorio per cui se siamo di più benvenga proprio per tutelare loro e aiutare loro poi a tutelare la cittadinanza detto questo noi le proposte ce le abbiamo è chiaro che non si va come dice sempre lui e lo ripeto non si fanno le nozze coi fichi secchi tutto va fatto con quello che ci vogliono le risorse in termini di fondi economici le risorse in termini anche di nuovi operatori da assumere io ringrazio ringrazio tantissimo daniele vincini e grazie in grado spero di essere di aver fatto un po di chiarezza cioè non io loro spero che in questo servizio siamo riusciti a fare un po di chiarezza perché davvero se ne parla sempre tanto il discorso che abbiamo fatto oggi qua nello studio di milano news sostanzialmente è alla base di poi tutto quello che diciamo con i vari politici se eleggiamo la sicurezza percepita cioè questi problemi organizzativi che avete denunciato e non solo organizzativi è chiaro che sono alla base poi di un buon funzionamento si può fare il processo inverso i titoli dovrebbero essere su questo non su ebriatore che viene ci fa quelle robe lì c'è un problema di comunicazione come denunciamo sempre sulla questione della sicurezza che porta a spostare l'attenzione verso verso l'influenza di turno che fa la sua denuncia sul social invece che verso magari i sindacati di polizia locale che dicono guardate che però noi il tema lo potremmo avanti da tempo e che magari se parlassimo insieme si potrebbe anche non vi dico risolvere tutto quanto ma buona parte del problema si potrebbe risolvere no? certamente il problema vero è che se tu ti presenti a un tavolo di trattativa e hai la pistola puntata alla tempia con già una scadenza 13 febbraio comunque vada io disdico quel contratto e ne applico un altro perché se questo è un modo democratico per un confronto sindacale io ne prendo atto però io a quel tavolo non mi siedo con queste condizioni io rispetto innanzitutto perché è un corpo di polizia sono gli israeli di Milano e vanno a rispettarli chiarissimo va bene vi ringrazio davvero tanto per averci chiarito meglio la situazione e aver fatto capire un po' di più come mai siamo arrivati a questo punto in bocca al lupo per la vostra battaglia grazie grazie e allora noi continuiamo andiamo invece con i Beatles con Now and Then e poi torniamo qui subito dopo una piccola pausa di nuovo qui a Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM da Plus sito a Pios e tutto quanto Grazie a tutti